Bene, iniziamo gli esercizi, ricordiamoci i punti del cosinterno, lo sterno verso l'alto, metto a parlare sul pavimento, le labbra nel sorriso e gli occhi leggermente verso l'alto. Andiamo! Trottino, panno sulle braccia, riscaldo la colonna vertebrale, eccoci ai dodici tamò, è una forma che va a rigenerare l'energia interna elettrochimica e l'energia esterna elettromagnetica. E spiro, spingo, usate tutti i muscoli delle braccia, del tronco, delle gambe. Imma in, in, respirazioni, Xeno. Eccoci alla forma degli esercizi quotidiani taoisti. Sono adatte a tutta la famiglia perché scari le funzioni 그럴qualnızte durante la giornata. stiamo legnando tutte le articolazioni e lo scarico delle dita qui c'è uno scarico di canali alto perciò quando io tocco con le dita prendo lo scarico e il C patogeno e lo lancio fuori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 il pensiero dei palmi vado in alto, sinistra ascolto sempre i miei palmi alto centro, alto, destra, alto, centro oggi svolgiamo l'esercizio del pacco C in, es, in, es adesso l'esercizio dell'alto in, es, in, es in, es in, es, in, es in, es oggi siamo qui per eseguire l'esercizio dell'uomo tra cielo e terra quindi andiamo ad unire l'energia del cielo con l'energia della terra inspirare inspirare e選endo e giù inspirare ad uno giù a sinistra inspirano e ad uno giù a sinistra respiro inspirano e entriamo ins ins e inspiro In, S. In, S. Oggi facciamo l'esercizio della spada segreta. Questo esercizio rappresenta metaforicamente la nascita, lo sviluppo e la muta. Grazie a tutti.